Affascinante! La tua tecnica all'avanguardia. Investigare i non morti è vecchio stile. Cosa c'è? Spegni le luci. Papà! Oh mio Dio! Chi ha ucciso mio padre? Un lupo mannaro. Un lupo mannaro? Come quelli dei film? Ah, giusto. Tu e l'argento non andate d'accordo, vero? Guardate attorno. I mostri che trovi nei libri sono reali. E sono tra noi. Lupi mannari, vampiri, zombie. Sono dappertutto. Marcus, tu sei uno zombie. Magari è solo influenza. Non dovevi mica spararmi! Prendi questo talismano. Finché lo avrai addosso, non potranno toccarti. Trovatemi quella ragazza. Portatela. È lei la chiave. È arrivata l'ora di usare il cuore di Belial. Belial è il più potente dei demoni. Tutto ciò che gli serve per ritornare tra noi è un corpo che lo ospiti e il cuore. E Belial vuole tornare! Chiunque controlli Belial controlla il mondo. Dylan! Allora, qual è il piano? Non serve un piano. Sono pistole più grandi. Abbassati. Cosa? Abbassati. 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 Grazie a tutti.